Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 141esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. E questa volta ci siamo con i tempi, avete visto? Sono stato bravo a mantenere la promessa, questa volta ho fatto passare soltanto una settimana e qualche giornino così. Iniziamo subito la puntata perché questa puntata sarà breve e circoncisa. Apriamo questa puntata del podcast di Marcos Box parlando di distribuzioni Linux e parliamo di Ubuntu perché questa settimana c'è stato il rilascio da parte di Canonical di Ubuntu 22.04.2, la seconda point release dell'ultima LTS di casa Canonical. Ovviamente non è stata rilasciata soltanto questa seconda point release di Ubuntu ma sono state rilasciate anche le point release di tutti i flavors ufficiali, quindi Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Mate, Ubuntu, Xubuntu, Ubuntu Studio, Kirin e quant'altro. Qualcosa sono le point release? Le point release non sono altro che aggiornamenti dell'ISO che servono per chi deve fare un'installazione pulita perché di fatto se avete già la vostra bella LTS installata non dovete fare altro che aggiornare il vostro sistema per rimanere sempre in linea con gli ultimi aggiornamenti. Queste nuove ISO contengono tutti quanti gli aggiornamenti relativi al parco software rilasciati fino a ora e comprende anche ovviamente tutte le patch di sicurezza e correzioni di bug. L'altra cosa che troviamo su questi ISO è l'aggiornamento dell'hardware enablement stack mutuato da Ubuntu 22.10. Quindi abbiamo l'arrivo del kernel 5.19 di mesa 22.2.5 che insieme a vanno a offrire miglioramenti delle prestazioni della distribuzione, un miglior supporto hardware in special mondo per quanto riguarda i driver grafici open source Intel e AMD. Ubuntu 22.04.2 porta anche un nuovo supporto per la piattaforma RISC-V fornendo nuove immagini per le schede RIC-RV e Polar Fire iCycle Kit. Io mi sono andato in paracare andando a dividirvi queste cose che per il 99% non gli interessano e vado a pronunciare parole in inglese che non so pronunciare. Comunque per maggiori dettagli vi rimando all'articolo su Marcosbox dove trovate l'annuncio ufficiale e trovate anche il link con tutti quanti i cambiamenti che sono stati apportati su questa seconda point release di Ubuntu. Parliamo adesso di Linux Mint, quella che è forse la derivata di Ubuntu più formosa e più conosciuta a livello globale, anche la più apprezzata tra le derivate di Ubuntu. Come ben saprete ogni fine mese Clement, Crem, Refebvre fa il suo consulito post con le ultime novità del fondo di sviluppo di Linux Mint e ci parla di quello che bocca in pentola, quindi di nuove aggiunte che vengono fatte a Cinnamon, ma le nuove aggiunte che vengono fatte in generale alla distribuzione. E questo mese, scorso mese, fine mese di febbraio, ho pubblicato un articolo dedicato a Linux Mint 21.2, la prossima versione di Linux Mint che vedremo fra qualche mese. Quali sono le principali novità che sono state annunciate in questo post mensile di Clement, Refebvre? La prima riguarda Nemo. Nemo 5.8 sarà dotato di miniature multi-thread. Insomma, che cosa succede? Che invece di generare ogni miniatura una per una, Nemo genererà più miniature in parallelo. Questo comporta sì un maggior consumo di CPU, ma offre un caricamento più rapido del contenuto delle directory, soprattutto quelle che contengono una grande quantità di file multimediali. E' stato poi aggiornato l'interprete JavaScript di Cinnamon, che è stato aggiornato alla versione 5.8. Sarà basato su GJS 1.74 e farà l'utilizzo di SpiderMonkey 102. La versione attuale utilizzerà la 78, quindi c'è stato un grande salto di versione. Poi ci sono state alcune implementazioni in XDG Desktop Portal, che sono attualmente in fase di scrittura per Cinnamon, Matei e XFCE, che forniranno una migliore compatibilità tra gli ambienti desktop e le applicazioni non native, come le applicazioni Flatpak, o anche le applicazioni adhuaita, quelle che di solito sono scritte soltanto per GNOME. Tra le altre cose, questo renderà possibile anche che queste applicazioni potranno supportare la Dark Mode. Poi c'è stata una grande attenzione anche a Warp... Warp... Spera... Ce la posso fare. Maledette R. Warpinator. L'ho detto, ce l'ho fatta. Allora, Warpinator lo conoscete. È un applicativo che trovate preinstallato su Linux Mint, che serve per poter condividere file su una stessa rete locale in modo semplice e senza alcuna configurazione. Warpinator funziona anche in ambiente Windows e funziona anche sui dispositivi mobile. Perché parliamo di Warpinator? Perché il team di Linux Mint? Perché Clem ha parlato di Warpinator in questo suo posto mensile? Perché è perché ha avuto molta attenzione da parte dei sviluppatori che si occupano della sicurezza di SUS Linux, che hanno deciso di dare uno sguardo al codice di Warpinator e hanno trovato alcuni problemi di sicurezza. Si sono messi in contatto con il team di Linux Mint e hanno deciso di rafforzare la sicurezza di Warpinator proponendo alcune modifiche e fornendo anche correzioni a questi bug di sicurezza. Quindi la prossima versione di Warpinator sarà più sicura e eviterà che copie maligne di Warpinator possono fingersi di essere qualcun altro all'interno della stessa rete locale, avviare trasferimenti e fare casini all'interno dei vostri computer. Andatevi a leggere l'articolo a riguardo che ho postato su Marcosbox dove trovate maggiori dettagli su quello che è stato fatto. Ed io personalmente sono molto contento che il team di SUS, il team che si occupa delle sicurezza di SUS, sia andato a mettere mani anche lì perché è sempre un team molto attento. Ricordiamo che in passato, come ha ricordato anche Caro Coppa, sono andati a mettere mano praticamente ovunque, sono andati a spulciare il codice di PIN, desktop environment, sono andati anche a spulciare il codice di SNAP per migliorare la sicurezza. Quindi ci tengono quelli di SUS a fare i pignori, andare a rafforzare la sicurezza degli applicativi di Linux e questo è sempre una grandissima cosa. È una piccola tirata d'ora che il team di Linux Mint non ci ha pensato prima a fare certe modifiche. Restando sempre in tema di derivate di Ubuntu, parliamo di PopOS. PopOS la conoscete, è la distribuzione realizzata dal venditore di hardware statunitense System76 che vende computer equipaggiati con Linux, in questo caso questa derivata di Ubuntu personalizzata che offre GNOME con una serie di estensioni, o meglio che attualmente offre GNOME con una serie di estensioni che vanno a migliorare la produttività perché hanno una serie di aggiunte che sono state fatte all'interfaccia grafica di GNOME e Shell che rendono GNOME e Shell più usabili in ambito lavorativo, chi lavora con molte finestre affiancate ma in generale migliorano GNOME e Shell, GNOME e Shell pure la sappiamo, fa cacà. Perché parliamo di System76? Perché System76 è tornata ad aggiornarci sullo sviluppo di Cosmic Day il nuovo desktop environment basato su RAST e il toolkit ISED che verrà utilizzato in futuro su PopOS da lo sviluppo di Cosmic Day va avanti ormai da tempo e ogni tanto il team di System76 ci dà qualche informazione sullo sviluppo di questo desktop environment riscritto completamente da zero. Questo mese ci ha parlato di due principali novità, la prima è una novità che molti di voi non gli è proferi a dei meno però tant'è, è una cosa che andava fatta. I sviluppatori di System76, gli ingegneri di System76 hanno realizzato un nuovo applet Bluetooth che si va ad aggiungere a tutti quanti quegli applet che il team di System76 sta scrivendo per questo nuovo desktop environment. Fino adesso hanno fatto l'applet audio, quello per la batteria, appunto quello del Bluetooth che vi ho appena detto quello per le notifiche, per la gestione energetica, per l'ora eccetera eccetera. Quindi stanno procedendo ad aggiornare tutti quanti gli applet che servono per poter far funzionare per dare un'esperienza desktop completa. L'altra grande notizia, anzi la notizia principale di questo aggiornamento da parte di Team System76 se riguarda l'editor di testo di Cosmic Day, perché il team di System76 ha deciso di realizzare un editor di testo nativo pensato esclusivamente per Cosmic Day. Hanno raccolto una serie di dati su cosa piace alla gente, di tutti quanti i principali editor di testo esistenti hanno spaziato da Vim a WS Code e adesso hanno deciso di dare una forma a questo editor di testo e hanno presentato due screenshot che fanno vedere come è la loro idea di editor di testo. Ovviamente queste sono le prime due implementazioni, le prime implementazioni dell'editor di testo. Il prossimo passo sarà quello di testare e iterare fino a quando non si arriverà a un editor di testo raffinato per Cosmic Day. Queste sono le esatte parole che hanno utilizzato pubblicizzando questo editor di testo. Sì, è una cosa che andava fatta anche in questo caso, perché ogni desktop environment che si rispetti deve avere una serie di applicazioni base come l'editor di testo, restano comunque sempre i miei dubbi per quanto riguarda il punto di vista grafico, perché la scelta cromatica dei colori che stanno utilizzando per realizzare questo nuovo desktop environment è molto brutto. Io la trovo molto carica visivamente e a mio avviso non è indicata per stare parecchi ore allo schema. Come a me farebbe venire la nausea. Come non mi piace, lo dico fin da subito, anzi l'ho sempre detto, chi mi segue lo sa. Non mi è mai piaciuto in generale proprio il tema di default di PopOS, quello che abbiamo attualmente sulla versione basata al subnome. e anche questa cosa è molto brutto. Speriamo che magari in itinere decidano di mettere mani anche al tema e fare qualcosa di meno aggressivo visivamente, diciamo così. Va, non voglio utilizzare altri termini. Comunque è interessante notare che si stanno concentrando molto su Rust. Rust è il linguaggio del momento. C'è questa Rust mania, come ha detto anche, come ha ricordato anche Jeremy commentando l'articolo su Marcosbox e probabilmente riusciranno anche ad attrarre anche altri sviluppatori perché tutti quanti sembrano mare Rust in questo momento e quindi secondo me riusciranno ad avere tante attenzioni in futuro su questo desktop environment. Poi, chi vivrà, vedrà. Continuiamo a parlare brevemente di System76 con una notizia riguardante l'HP Dev One. Che c'è zhp dev one con System76? Se siete utenti Marcosbox da parecchio tempo, se siete appassionati e seguite gli sviluppo di tutti quanti i prodotti del mondo Linux, vi ricorderete di certo di questo computer portatica pensato per il sviluppatore realizzato da HP in collaborazione con System76 ed equipaggiato con PopOS che era stato presentato in maniera congiunta da HP e System76 lo scorso giugno 2022 e che aveva fatto sognare molti sostenitori del software libero open source che speravano in questo prodotto e speravano anche in una commercializzazione globale. Poi alla fine purtroppo il prodotto è stato commercializzato ufficialmente soltanto negli Stati Uniti e direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto arriva una brutta notizia per tutti quelli che speravano di poterlo acquistare, di poterlo ancora acquistare o meglio, HP ha annunciato di aver esaurito tutti quanti i PC, tutti quanti i PC HP Dev One che aveva prodotto e di averne quindi di fatto terminato la produzione. Ora le cose sono due. O HP e System76 hanno deciso di smettere di collaborare oppure la collaborazione è ancora viva e attiva e magari hanno deciso di terminare questo HP Dev One e di lavorare a un suo successore con un hardware aggiornato, magari che ne so, un HP Dev 2. Io spero ovviamente in un nuovo prodotto in collaborazione con HP da parte di System76 e spero soprattutto che questo prodotto abbia prezzi non folli e che si possa acquistare anche dalle nostre parti anche in Europa perché era davvero una bella macchina, ho visto parecchie recensioni e poi avere una cosa perfettamente compatibile con Linux è quello che tutti quanti noi utenti aspettiamo, anche se poi alla fine sotto sotto a noi ci piace, diciamo, cioè a noi ci piace avere hardware non pienamente compatibile, inizio ad andare a sperimentare cose per farlo come tutti quanti noi vecchi pinguini che abbiamo provato Linux nella prima era informatica quando ogni qua volta si andava a comprare una periferica, una schiena, una qualsiasi cosa c'era il terrore, dici, ma no, ma no, ma questo funzionerà, fammi andare a cercare di documentare, capì? E magari, come nel mio caso, io poi mi documentavo sempre, poi magari sceglievo qualche altro prodotto l'acquistavo, rimanevo fregato, che non funzionava correttamente, stampanti in primis adattatori di Bluetooth, adattatori di Wi-Fi, ma quanti acquisti sbagliati che ho fatto io in passato e poi fortunatamente sapete come funziona con Linux prima o poi qualcuno ci mette mani e trova una soluzione per farlo andare oppure arriva direttamente il supporto all'interno del kernel e quant'altro Vabbè, voi che cosa ne pensavate di questo prodotto? Vi sconfifferava le papiche gustative? Vi faceva sbavare come era sottoscritto? O no? Fatemi sapere nei commenti Parliamo adesso di un problema che riguarda tutto quanto l'internet moderno ovvero il copia e il colla selvaggio Non è la prima volta che accade Anche in passato io qualche volta ho preso anche qualche cantonata fidandomi di alcune fonti Dicevo, non è la prima volta che accade che magari uno pubblica un articolo e poi c'è i tantam, tutti quanti ne parlano Nessuno va a verificare bene la notizia se veramente è stata detta E alla fine ci si ritrova tutti a condividere la stessa stronzata E in questo caso è successo anche nell'ambito Linux Perché qualche giorno fa, attorno al 25 di febbraio Molti siti hanno riportato la notizia che il kernel Linux 6.2 Era il primo kernel a supportare i processori Apple Silicon M1 Quindi tutti quanti stavano lì a dire Ah oddio potremmo installare finalmente la nostra distribuzione preferita Sui computer equipaggiati con Apple Silicon M1 No, non era vero La notizia era stata inizialmente riportata a ZDNet E come vi dicevo c'è stato subito un copy and call Che ha amplificato la portata di questa notizia Ed è dovuto intervenire direttamente gli sviluppatori di Asai Linux Quelli che stanno facendo il lavoro sporco di conversione Per poter far funzionare Linux sui computer Apple Silicon M1 Sono dovuti intervenire, vi dicevo, tramite Twitter Ma anche tramite altri social per chiarire la vicenda E hanno ufficialmente chiarito quello che era paese Con il kernel 6.2 non siamo in grado di eseguire Ubuntu Né qualsiasi altra distribuzione sui processori Su qualsiasi Mac M1 Perché? Perché mancano ancora tante di quelle componenti che non funzionano Quindi dobbiamo ancora aspettare Dobbiamo ancora pazientare per poter avere un supporto completo Gli sviluppatori di Asai Linux hanno analizzato quali sono i problemi Quali sono gli ostacoli principali che attualmente ci impediscono di fare ciò E hanno fatto capire che per avere un supporto out of the box ci sarà molto da lavorare E le distribuzioni dovranno lavorare con Asai Linux per avere tutto funzionante Comunque c'è una notizia positiva Gli sviluppatori di Asai Linux hanno detto che stanno lavorando con alcune distribuzioni Mainstream E prevedono di annunciare il supporto ufficiale di Apple Silicon Nel prossimo futuro Per una distribuzione mainstream Che sia Ubuntu Perché ogni volta che si parla di distribuzioni Linux mainstream Sapete quali sono le principali E quali sono quelle che cercano di spingersi un po' su queste cose Io confido nei ragazzi di Ubuntu Confido nei ragazzi di Asai Linux Perché sì, spero in un futuro di poter Acquistare un prodotto Apple Silicon M1 Perché è tanta bella roba a livello di hardware E magari di poterci installare appunto una distribuzione Linux sul Mac Non fate quelli puristi che dicono Io non ci comprerei mai un Mac M1 Apple cattivo E' hardware quello Quindi così come acquistate hardware di altri produttori Anche in quel caso state acquistando dell'hardware E poi ci fate girare quello che volete voi Il vostro software libero sul vostro hardware Per me è un progetto utile a Asai Linux Questo sforzo che stanno compiendo per poter portare Il supporto al Linux sul processore Apple M1 E' godevole Ed è anche uno sforzo che comporterà miglioramenti in generale Anche in ottica futura Quando ci saranno altri processori ARM in commercio Anche da parte della concorrenza Quindi io faccio il tifo per i ragazzi di Asai Linux Per questo progetto E tornando al discorso di apertura Tiratina d'orecchia a tutti quanti quelli che hanno fatto copia e colla Senza stare a verificare Voi ho detto Anche io in passato ci sono cascato su alcune cose Però poi ho fatto mea cupa E mi sono cospasso il capo di cenere E mi sono messo in ginocchio sui cesi Per chiedere scusa Però Questo fa riflettere Perché poi Si è avuto in questo caso sul mondo Linux Ma si è in continuazione Su una miriade di altri argomenti Che se sta a fare il copia e colla senza verificare la notizia Che brutta cosa Che brutto vizio che stanno prendendo tutti quanti i giornalisti Penultima notizia di questa puntata Riguarda l'annuncio di una nuova Minor Race di Gimp Il famoso software di editing di immagini Multi piattaforma e open source Gli sviluppatori di Gimp hanno rilasciato la versione 2.10.34 Che va a portare ovviamente correzioni di bug E va ad introdurre alcuni miglioramenti al codice In alcuni casi mutuati Dal ramo in sviluppo Quindi da Gimp 2.99. Qualche cosa Quali sono le principali novità? Le principali novità riguardano innanzitutto La gestione di alcuni formati di file Largamente utilizzati E' stata migliorata la gestione dei file in formato TIF Che è stata mutuata Questi miglioramenti che sono stati apportati Sono stati mutuati da Gimp 2.99.14 E' stato fatto il backport di una serie di funzionalità Nel ramo di sviluppo Per migliorare il supporto Ai file PSD Quelli di Adobe Photoshop E' stato migliorato anche il supporto Per il formato di file JPEG XL E' migliorata anche la gestione Dei file PDF Quindi la finestra di dialogo di importazione PDF Adesso mi credo anche di gestire correttamente Le impostazioni per le aree trasparenti E quant'altro E' stata modificata E' stata migliorata anche Con il backport da Gimp 2.99.12 E' stata migliorata la gestione Delle immagini in formato RAW Sempre da Gimp 2.99 E' stata migliorata anche Il selettore di modelli Che adesso consente di ridimensionare Più facilmente la teglia Quando si utilizzano Formati di immagini più comuni E' stata poi migliorata Sono stati fatti alcuni miglioramenti Nella selezione del cover del desktop Questo sia su Windows Che su Linux Su Linux in particolare Hanno dovuto effettuare Il backport del codice da X11 Perché per quanto riguarda La gestione della Della selezione colore Dal desktop Gli esercupatori hanno dovuto Fare una marcia indietro Per andare al correggio Una regressione Nello color picking Introdotta A seguito del voler Seguire Le linee guida per Wigand Seguire le linee guida per Wigand Avevano causato dei problemi In quanto non veniva restituita Alcuna informazione Sulla gestione del colore E hanno deciso Di fare retromatch Di utilizzare Il vecchio codice Scritto per X11 Poi sono state fatte Alcune correzioni di bug Dedicate alle build Per macOS E poi come al solito C'è stata In questa nuova versione Il ragionamento Delle librerie Babel E B-A-B-L E G-E-G-L Perché dico Facendole così Che sennò Siamo un deficiente Quando dico Babel E G-E-G-L Ultima notizia Di questa puntata Del podcast E una nuova notizia Perché non è una notizia Ma è una guida Che ho postato Sulle pagine di Marcosbox Chi mi segue Sul canale telegram Lo sa Da qualche settimana Questa parte Sulla mia Endeavor OS Ho deciso Di rimuovere KDA In favore di GNOME Perché l'ho fatto Perché sono Masochista Principalmente No Scherzi a parte L'ho fatto Perché comunque Lo sviluppo Di KDA Plasma Adesso Per quanto riguarda La versione 5 Si è fermato Perché adesso È in stato LTS Gli sviluppatori Si stanno dando Da fare Per effettuare I porting Alle QT6 Che è notizia Di qualche giorno fa Che è stata fatta La prima importazione Del codice E quindi Stanno Lavoreranno Un po' dietro le quinte Quindi nella versione stabile Non ci saranno Grandi novità E ho deciso Di dare uno sguardo A GNOME Perché Fra qualche mese No mi sembra A fine mese È mese di marzo Credo Sicuro Non mi ricordo più Quando uscirà Vabbè E a breve Dovrebbe uscire La nuova versione Di GNOME Che andrà poi A introdurre Alcune implementazioni Carine tipo Le applicazioni In background E altre cosine E vabbè Ho deciso Di installare GNOME Stavo senza fare Ho deciso anche Per Perché Da parecchio Che non facevo Un cambio di Dextro per variement Su una distro Senza andare A reinstallare direttamente Tutta la distro Come facevo in passato Perché era una persona Molto pigra Anche perché poi Succedeva che andavo a mettere mani E facevo casini In questo caso Ho messo mani Ho installato GNOME Sulla Sulla mia Endeavor OS E Tutto ha funzionato Tutto ha funzionato O meglio Quasi tutto ha funzionato Perché mi sono accorto Che non funzionava La funzionalità Di Nauticus Per impostare Come sfondo Un'immagine Direttamente Cliccandoci Sull'immagine Da Nauticus Con il tasto destro E scendendo L'opposita voce Ho cercato di qua Ho cercato di qua Ho iniziato a imprecare In varie lingue E grazie al Reddit Ho trovato la soluzione Il problema si verificava Almeno si verifica Perché è un problema comune Anche Ad altri utenti Non è solo il sottoscritto Che non ha fatto Qualche Non ha fatto i compitini Correttamente Si verifica Perché mancano due pacchetti Che normalmente Non vengono installati Come dipendenze Di Nauticus E si verifica Sia su Arch Che su Tutte quante le derivate Di Arch Per risolvere Basta installare Due pacchetti XDG Desktop Portal E XDG Desktop Portal Gnome Una volta installati Questi due pacchetti Nauticus Tornerà a funzionare Correttamente Per quando riguarda La funzionalità Di impostare Un'immagine Come sfondo Cliccandoci Direttamente Con il tasto destro Da Nauticus E È una stronzata Che magari A molti di voi Non interessa A molti di voi Non si saranno manco Accorti del bug Sto cercando di capire Se magari In un'installazione Da zero Con Endeavor OS Si presenta o no Questo bug Però Da quel che ho capito Dove presentarsi Anche con un'installazione Da zero Quindi seguendo L'installazione Anche perché io Ho installato Tutto Gnome Seguendo le indicazioni Presenti sul sito Di Endeavor OS Quindi Eventualmente Non Eventualmente Si verifica Questo bug Solo se lo Installi In un secondo momento Sarebbe da Scemi Indicatelo Nella guida Penso che Carca Ve ne siete accorti Pure voi Che ci sta sto bug Che manca Sto pacchetto Proponetelo Andate a correggere Sto guida Vabbè Comunque Mi informerò meglio Nelle prossime Giorni Settimane Mesi Quando c'ho tempo Di andare a vedere Se riesco a Riprodurre il bug Con un'installazione Fresca e pulita Di Endeavor OS Se l'avete fatto Voi un'installazione Fresca e pulita Di Endeavor OS Con Gnome Avete notato questo bug Fatemelo sapere Nei commenti E con questa ultima notizia Si conclude qui Questa 141esima puntata Del podcast di Marcos Box Come sempre Vi invito A seguirmi Sui canali social Mi trovate su Facebook Mi trovate su Twitter Mi trovate su Youtube Mi trovate Sulle principali Piattaforme di podcasting Mi trovate su LinkedIn Con il mio profilo personale Mi trovate Su Mastodon1 Mi trovate Soprattutto su Telegram Dove sono All'attivo Tre modi Per seguire il blog Il canale Telegram La community Telegram Dedicata a voi utenti Quindi dove potete Iscrivervi E commentare E parlare di qualsiasi cosa Non soltanto A tematiche In riguardanti Linux E il canale Telegram Delle offerte Amazon Grazie al quale Potete acquistare Prodotti su Amazon Supportando così Il canale Perché tramite Il mio codice Refer Sapete bene Come funziona Il codice Refer Di Amazon Se volete Acquistare Qualche prodotto Che non è presente Nel link Referral Cioè nella pagina Nel canale Telegram Delle offerte Amazon Potete comunque Aggiungere il mio Referral Che trovate Sulle pagine di Marcosbox Nel campo a destra Si chiama Marcosbox Meno 21 E vi ringrazio E vi ringrazio Fin da ora Se deciderete Di supportare Il blog In questa maniera E vi ricordo Che potete supportare Il blog Anche in un'altra maniera Ovvero Acquistando Una VPN Oramai lo sapete Tutti quanti I canali Di YouTube E quant'altro Dicono Ecco Questa Nord VPN Questa Surfshark Questa Questo video Sponsorizzato A chiunque E sponsorizzano Anche Marcosbox Quelli di Di questi servizi VPN Se Acquistate O decidete Di rinnovare Il vostro servizio VPN Che sia Surfshark Che sia Nord VPN O che sia Adas VPN Perché fanno parte Tutte Della stessa famiglia Potete Utilizzare Il mio codice Referral Il mio link Di applicazione E così facendo Supportirete Marcosbox Trovate Su Pagine di Marcosbox Un bannerino Dedicato Ci cliccate Da sopra E trovate Tutti quanti I link Referral Per piacere Se avete necessità Di farlo Acquistatela Dal mio link Referral Non acquistateli Da altri Anche perché Quelli di Surfshark Ogni tanto Mi mandano Gemelli Che sono Spaventati Ma com'è Non ci sono Conversioni Con Di quelli Di Nord VPN Manco Manco Per la morte Giusto A Tras VPN Ci sono state Delle conversioni Che però Non ho ancora Intascato Perché non sono Ancora arrivato A la soglia Minima Quindi Se volete Se vi serve Una VPN O dovete Rinnovare Una VPN Utilizzate Il mio Link Referral Tanti gli sconti I bonus Che danno A me O a Qualsiasi Altro Youtuber O quant'altro Che sponsorizza Nord VPN Atos VPN O Surfshark Sono gli stessi I stessi bonus Votate per il sottoscritto Che è più carino E simpatico Vabbè Con questa Marchetta Si conclude qui Questa Centoquarantunesimo Puntata del podcast Di Marcosbox Gunga vita e prosperità A tutti quanti E ci riascoltiamo La prossima settimana Con una prossima puntata Del podcast Ciao ciao